Un supporto straordinario per i disegni con la penna Biro. Seguitemi. Il supporto è una tela, una semplicissima tela, ma dove possiamo ottenere risultati straordinari. Come vedete, la trama della tela, essendo molto grossa, mi aiuta moltissimo per questo tipo di texture. E adesso io sto eseguendo questo disegno di questa nuvola con questa penna, che è una Big Crystal Soft, e vi consiglio veramente di provarlo e poi di dirmi nei commenti se vi siete trovati bene e se siete soddisfatti di questo tipo di supporto. Io lo sto sperimentando e penso che lo utilizzerò anche per grandi formati. Quindi vi do appuntamento a domani e arrivederci a presto.